È stato Don Vito Telesca, vicario generale della Diocesi e curatore della raccolta, dare là la mostra di opere di pittura e scultura sacra di artisti contemporanei, organizzate in occasione delle celebrazioni per l'anno della fede. L'inaugurazione è martedì sera nella Pinacoteca Provinciale di Via Lazio a Potenza, dove quadri e sculture rimarranno esposti fino al 13 aprile. Nella serata d'apertura si sono sosseguiti diversi interventi, fra cui quello dell'assessore alla cultura della provincia di Potenza, Francesco Pietrantuono, del responsabile della sede Anza di Potenza e membro diocesano del MEIC, Mario Restaino, dell'Arcivescovo Metropolita Monsignor Agostino Superbo. Sin dalle origini del cristianesimo, ambito privilegiato per tenere vivo il dono della fede nei fedeli, è stato il rapporto tra arte e fede. Una vera e intensa diaconia, detto Don Vito, da parte dell'arte, ha reso possibile in ogni tempo la lettura e la interiorizzazione dei misteri della fede, da parte di coloro che venivano considerati poveri rispetto all'approccio accademico della teologia. In assonanza a questo percorso secolare oggi, nella nota con le indicazioni pastorali insieme al testo del motu proprio del Papa sull'anno della fede, l'arte viene invitata a servire la fede in funzione catechetica ed ecumenica nel dialogo tra Chiesa e mondo contemporaneo. Le opere, che fanno parte della quadreria di Don Vito Telesca, sono espressione del vivace rinnovamento del dialogo realizzatosi nell'ambito dell'Arcidiocesi di Potenza a cominciare dal giubileo del 2000.